I numeri dell'Abruzzo continuano ad essere da zona gialla, anzi proprio oggi tutti gli indicatori sono positivi. Segno questo che la situazione sta migliorando e seguendo il trend degli ultimi giorni. A tenere alta l'attenzione però ci sono i comuni dove continuano a svilupparsi i focolai e che prontamente vengono inseriti nelle zone rosse proprio per mantenerli isolati. Il tutto alla vigilia delle riaperture, seppur parziali, che ci saranno a partire da lunedì. Oggi i nuovi positivi in regione sono 158, molto pochi e per di più su un numero di tamponi molecolari nemmeno tanto basso. Sono stati infatti 4.598 quegli esaminati per una percentuale di contagiosità pari al 3,4%. Il totale dei test effettuati, compresi gli antigenici, sono stati 6.908 e qui la percentuale scende al 2,3%. Anche oggi è la provincia di L'Aquila quella più colpita visto che i nuovi positivi sono 66. Stesso numero di nuovi contagiati per Chieti e Teramo che ne contano 40 a testa, mentre Pescara è sempre più bassa con soli 9 nuovi positivi. Fortunatamente è basso anche il numero dei decessi che sono stati 5, dei quali uno verificatosi nei giorni scorsi ma comunicato solo ora all'ASL. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia si porta così a quota 2.360. Buone notizie anche dagli ospedali abruzzesi dove i ricoveri sono in calo. Sono 7 meno di ieri quelli nelle terapie non intensive dove i letti occupati sono attualmente 459 e sono diminuiti di una unità. Nonostante un nuovo ricovero a fronte di due dimissioni, i letti occupati nelle terapie intensive che attualmente sono 45. Continuano ancora a scendere, sono 176 meno di ieri, coloro che sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL di competenza che ammontano a 8.732. Alto, più del doppio dei nuovi positivi, il numero dei guariti di giornata che sono 337. Questo fa sì che gli attualmente positivi che si registrano in Abruzzo siano 184 meno di ieri per un totale di 9.236 e presto si potrebbe scendere sotto quota 9.000.